Raga, qui non so come andrò a finire, vediamo come va a sbattere l'auto Ok ok ci siamo, non vedo un cazzo ma Yo 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 guys, what's going on? Fala galera, tudo bem? Tudo bem rapaziada? Como estas? Como estas? Chicos? Ciao ragazzuoli, benvenuti nel nuovo episodio di Extreme Races Dopo millenni, anni, secoli, non so, dite voi Ma purtroppo con, cioè purtroppo, con i nuovi update, con i nuovi aggiornamenti, con le nuove auto inserite Tutto il resto a presto, diciamo Io non ho avuto spazio per mettere la Extreme Races In realtà già ne avevo un'altra registrata ma era passato tempo E ora comunque volevo anche ringraziare tantissimo per i 100.000 Sapete ragazzi, i 100.000 iscritti E cercherò di portarvi un altro speciale Molto speciale direi Comunque è bello Siamo qui in una gara, mi hanno invitato ragazzi, in una playlist Questa è la seconda gara che faccio La prima l'ho fatta ma era un giro solo Tipo, sono arrivato al terzo apposto Ora qui siamo i primi ragazzi Però, vabbè, abbiamo tutti azzeccati praticamente Volevo uscire l'811 ma si è buggato tutto Infatti abbiamo aspettato non so quanto tempo per iniziare Volevo provare la nuova auto ragazzi Però guardate qui che cazzo è Questo, eh ragazzi, si entra malissimo Si entra malissimo Vedo già persone andare, andare, andare Speriamo ragazzi che almeno riusciamo a recuperare Quanti giri sono? Tre giri addirittura ragazzi Quindi è bella lunga la gara qui What? Che cazzo è? Ragazzi, non ho capito lì che bisogna fare Ah, cioè, si diventa sopra Però un po' di chiarezza sarebbe Magari consigliata Sarebbe leggermente consigliata Quindi ora qui lo stesso procedimento Sì, 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 ok In realtà non è tanto difficile No, non lo è Quarto posto Andiamo subito Nella gara abbiamo il creatore Se non esbolla è il creatore di questa gara stessa Infatti è il primo posto Mukis Mukisan Grazie al cazzo Quindi ragazzi Andiamo anche a prendere la seconda posizione Non è male I giri sono corti Già siamo al secondo giro Cerchiamo di recuperare con il nostro Cyrus Tra poco cambierò il colore ragazzi Non so se vi porterò un video Fatemi sapere nei commenti se lo preferite Se lo volete Perché sicuramente farò qualche colore strambo Strano E raga Arriviamo a 2000 like Può essere un poco poco più ambizioso Delle altre volte raga Se ce la facciamo We can get 2000 like please Volemo scegliare 2000 like Sì Anche in inglese e in portoghese Raga sapete un po' Interzionalizzazione Non so che cazzo sta di Andiamo ragazzi Siamo al quarto posto Sei secondi Da JustGamer Potremmo recuperare raga Non è Non credo sia impossibile Vediamo un po' Vediamo un po' Addirittura ora siamo primi Non so perché ma Ci porta primi Vediamo un po' ragazzoli Se riusciamo a fare Un Mamma mia me la tiro da solo Me la tiro da solo No raga No ma è troppo strano sto coso Veramente strano raga Questo warride Eeeh Vediamo un po' ragazzi Ci porta di nuovo primi Forse hanno sbagliato Non so se lo stanno facendo Ok Primo flip è andato Perfetto No raga Non so mai dove salga bene Perfettamente Stiamo perdendo troppe posizioni raga Troppe troppe posizioni Infatti ora ci porta secondi Sicuramente qualcuno ci è riuscito Concentriamoci Ok il primo è andato Il primo è andato raga Questa è l'altezza perfetta Sì perfetto Dai Quarti ancora Sì raga Quarti ancora Terzi 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 Almeno il podio raga Vogliamo iniziare almeno con il podio Eccoci qui L'ultima curva Raga Incrociamo le dita Ci porta primo Non so il perché Ma ci porta primo Vediamo un po' se riusciamo A fare il miracolo raga Ok il primo è andato Non dovrebbe essere difficile Vediamo un po' No 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 E volevi Eravamo primi ragazzi Eravamo primi Ci porta ancora primi Non so perché Non so come Ma ci porta ancora primi Vediamo un po' se riusciamo Nel miracolo adesso No 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 Non mi deludo Rosiris Abbiamo preso l'alto Prendiamo il checkpoint E andiamo Al primo posto Andiamoci a prendere questa vittoria Subito Veloci Rapidi 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 ragazzi Dobbiamo assolutamente andare a vincere Non prendere pali inutili Andiamo A chiudere Al primo posto La prima gara Ci vediamo subito alla prossima Eccoci qui ragazzi Alla seconda gara Siamo con le nostre Vesparelle Le faggio In una gara Non so ragazzi Dovrebbe essere abbastanza complicata Ma non lo so Ha un 65% di valutazione Quindi Andiamo a vedere subito Di cosa si tratta Cerchiamo di prendere vantaggio qui Ragazzi C'è il contatto ovviamente E vabbè Già ci Ci fottiamo tutti così E vediamo un po' Se riesce a salire Ok perfetto Dai 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 Cerchiamo di fare qualche impennata Per Per prendere velocità Ok perfetto Con un po' di equilibrio qui Ragazzi Non dovrebbe essere difficile Abbastanza largo Però Sono le ultime parole famose Attenzione ragazzi Con la mia Vesparella gialla Elettrica Cazzo 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 Ottimo Ottimo Ragazzi Devo usare Un po' di cazzima Come si dice Il napoletano Cioè Di cattiveria E di furbizia No però ti dimore Se al mio 3 Non vai Ti butto giù Uno Due Tre Ti butto giù Thomas mi dispiace Poi magari se vedrai Il video Ok Fatto tutto da solo Ottimo Faggio Ancora qui In velocità Ragazzi Perfetto Ora qui Andiamo dritti Non ci passo Qui in mezzo Non so che cazzo Devo fare Ah no Si passa Che cazzo Cazzo Ragazzi Andano da solo Slide Stupendo Bellissimo Ragazzi Ottimo Bene così Proviamo ora A salire qui Ah non me l'aspettavo Quello Quello slide Lì Bello 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 Ok Un attimo Solo Un attimo Solo Cazzo Ora Mi dispogina Qua è facile Che cadiamo Bene 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 Perfetto Vai 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 Ragazzi non so perché C'ho queste Non mi chiedete il perché Di queste Antenne in testa americana Ma Ci fu A proposito Dell'independence Dei No cazzo Ragazzi non è andato Ci fu Quello di due anni fa Tipo una cosa Il generale L'anno scorso Io Comprai questo Madonna ragazzi Non va Porca Eva Comunque Comprai questo Casco Diciamo così Con queste antenne Ragazzi non va Come cazzo Devo fare Non mi far bestemmere Vai Ah perfetto Devo fare Quale al massimo Devo impennare Comunque la dicevo No Si sono buggate Sti Sti cosi Qua Non si riesce a mettere Il casco Posso Cambiare quanto voglio Io ma niente Non si modifica Dai 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 Checkpoint Perfetto Ragazzi il primo Sarà abbastanza veloce Dobbiamo Cercare di Di velocizzare la cosa Che io ho perso Troppo tempo Lì Troppo 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 Tempo Qui Devo salire Qua Perfetto Per farmi brutti Scherzi Qui ragazzi Ad al massimo Ah si cade qui giù Ok perfetto Pensavo cadesse Ok qui davanti a me Cazzo raga ma come cazzo Corre black tiger 42 secondi di distacco Dobbiamo Assolutamente Andrà al massimo Senza cadere Però perché Sennò poi Perdiamo Veramente secoli Dobbiamo Sperare Qualche sua caduta Non deludermi Ok ottima Faggio Qui raga Qui Bagga Ragazzi no 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 Uff Uff Sì sì ci siamo Ci siamo Mi porta prima ma Probabilmente c'è il checkpoint Lì in alto da prendere Quindi non sono prima Infatti Ma sono secondo Dai 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 Veloce 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 Faggio Dai 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 Ok perfetto Ragazzi la terza gara Cerchi di prendere L'811 Stavo per cadere La fissa l'811 Senza nessun Ragazzi ho rallentato Non so se ce la fa la faggio O il faggio Non so come chiamarla Ma prendiamo il checkpoint E continuiamo Il black tiger è lì Il black tiger è lì ragazzi Dobbiamo recuperarlo Assolutamente Qui Sui trunchi Perfetto 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 Qui Invisibili Ok già riconosco Questi cose invisibili Black tiger è caduto Ragazzi Black tiger è caduto Quindi siamo primi Sì Siamo primi Qui dovrei andare Di qui Dovrebbe essere tranquillo Sì Qui dovrebbe essere Più avanti Perfetto Ragazzi C'ho un po' d'ansia C'ho un po' d'ansia Ragazzi Stavo per cadere Por No no black Mi bussi Ma bro Io devo Devo andare Ok perfetto Diretti così Ora tagliamo qua Bene così Bene così Di nuovo lo slide Qui tra i container Non so come chiamarlo Ma credo slide sia corretto Ok perfetto Black tiger dietro lì Ti prego Cadi black tiger No non è caduto Al massimo Al massimo qua ragazzi Dai dai Impinna impinna Faggio E ora No raga Non lo sapevo Ci ha superato Non lo sapevo Raga purtroppo Purtroppo Non sapevo Se dovevo andare lì Almeno Non volevo fare sbaglio Ora raga Cattiveria Ma No No Che cazzo Cadi Porca Raga No 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 Quanti checkpoint Ma Ma che cazzo Cadi Che il mio personaggio Cadi Da sto motorino Di merda Muoviti dai E non cadere Che mi incazzo Ok perfetto Quanto tempo abbiamo perso Raga Dobbiamo solo sperare Che lui sbaglia Ma ormai Vedo che qui le cose Sono abbastanza semplici Vabbè Se poi perdiamo Perdiamo tempo Così raga La frittata è fatta Ok Tubi qui Non cadere Ok perfetto Cerchiamo di andare ancora Di velocità Non so Per salire lì sopra Ok ottimo Lo slide E vabbè Raga Black Tiger è andato Ormai Anzi ci sta anche aspettando Il traguardo Vabbè Finiamo sta gara Facciamo sia piattaforme Complimenti a lui Purtroppo ho perso tempo In tanti spot inutili Raga Dove potevo benissimamente Andare Vai 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 Bro vai 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 Bro vai vai Prima che ti Ti faccio così Ragazzi Passiamo subito Alla terza gara Prenderò l'app fissa L'811 Come vi ho promesso Ragazzi Eccoci qui con l'app fissa L'811 Ovviamente erano consigliate Tutte le auto Tra virgolette Classiche Le super L'attiventi La zentorno E lo saris Proviamoci Ragazzi Andiamo a vedere come va a finire Potrebbe andare a finire pure Molto male Però Sti cazzi Andiamo Partiamo subito Cerca di prenderci Almeno la La massima velocità E il massimo vantaggio Qui sui rettilinei Anche se vedo Che siamo Siamo alla pari Dell'attiventi Della Delle altre Oh cazzo Qui freniamo un attimo Per prendere la curva L'aderenza di quest'auto Come quella della grotti Non è proprio Il massimo della vita Ragazzi Purtroppo Dai 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 Almeno recuperiamo qui Porca Eva Ragazzi È vero che È molto veloce Ma ci mette molto tempo A recuperare Quella città Guardate qui Mi Ultrapassano tutti Guardate come scivola L'auto Ragazzi È una cosa Imbarazzante Diciamo La differenza Di trazione In confronto alle altre Qui devo cercare di tagliare Il massimo Ok Siamo al quarto posto Ancora È ancora accettabile Dai Almeno qui Dovremmo recuperare qualcosa Su questi rettilinei Dai dai Rapfister Che qui almeno devi Devi dare Il tuo massimo Dai Oh cazzo ragazzi È difficilissimo Mantenerla Ok Ok Si fa veramente Il doppio della fatica Comunque siamo ancora qui A lottare Dai 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 Questo è il nostro È il nostro spot Ragazzi Vedete qui Sulle punte di velocità Non si scherza Oh Guardate qui ragazzi Che drift Meno male Qui stiamo a buttare il palo in alto Eh ragazzi Qui non so come andrà a finire Vediamo come va a sbattere L'auto Ok 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 ci siamo Non vede un cazzo Ma ci siamo Sì 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 No 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 Mantieni di Ok ragazzi Ottimo così Perfetto Siamo al primo posto Siamo addirittura al primo posto Ragazzi Sì 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 Ci siamo Ci siamo Freniamo qui ragazzi Questa curva infame Bastarda Siamo al secondo giro Ragazzi Se riusciamo a mantenere questo ritmo Al primo posto È un'impresa incredibile Vincere con quest'auto Ragazzi Perché vedete come Scoda Come è difficile da manovrare Guardate 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 Come perdere Una gara Guardate Un'opportunità del genere Se riesco a fare i culi Con l'upfisser pure Ragazzi Oh guardate qui Siamo sul ghiaccio addirittura Al massimo All massimo Ora qui Cerco di mantenerla Un po' Di volo frenare Invece con l'attivente Non avrei mai frenato qui Almeno avrei rallentato Pochissimo Purtroppo Devo mantenerla Molto di più È come una Una cavalla pazza Eh ci stanno recuperando Da dietro Minacciosamente Chi è Giast Gamer Ci stanno recuperando In un modo incredibile Eh ragazzi Ho preso male la curva Guardate qui Come è slitta Mamma mia È vergognoso Ragazzi La trazione di quest'auto È vergognosa Ci ha mangiato Quest'attivente Abbiamo perso tutto Il vantaggio Accumulato lì Purtroppo Ragazzi Non è proprio Allo stesso livello Ma ora dovremmo Sperare di farlo Di nuovo la prima E sperare che Giast Gamer Sbagli Oh cazzo Bene così Massimo Dai 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 Sprigiona sti cavalli Che cazzo T'ho comprato a fare Ok Freniamo Freniamo di brutto Qui ragazzi Ok ragazzi Ora È il momento della verità Ragazzi Speriamo bene Ragazzi Speriamo bene Ok Spirale è andata bene Andiamoci a sbattere qui Perfetto Ragazzi Perfetto C'è anche lui davanti a noi Cerchiamo ragazzi Di Fotterlo In qualche maniera Ottimo L'atterraggio Eh Ci hanno fottuto Dietro No Oh no Qui c'è il traguardo Porca Va bene Va benissimo Anche così ragazzi Ho fatto il massimo Veramente Avete visto Per domare Questa Quest'auto Stranissima Spero che il video Vi sia piaciuto Ragazzuoli Come vi ho detto Arriviamo almeno 2000 like Ragazzi Per cortesia Non è niente di che Spero di Sì Secondo posto Confermato Spero di portarvi Altre extreme races Fatemi sapere Se preferite Questi episodi Con più gare Oppure preferite Ragazzi Episodi Con una gara sola Diciamo Video singoli Con gare singole È tutto ragazzi Ci vediamo Al prossimo video See you guys In next video Falla galera Ci vediamo In un prossimo video Fallu E nois Ciao